Toleranza zero, la linea assunta dall'Ulso 8 Berica nei confronti di chi si reca al centro vaccinale creando disguidi e ritardi, bloccando di fatto lo svolgimento dell'attività dei sanitari. Fenomeno che si verifica con frequenza da quando è entrato in vigore l'obbligo vaccinale per alcune categorie. Cominciano a chiedere numeri di assicurazioni perché vogliono essere garantiti qualora dovessero avere problematiche legate alla vaccinazione. Ecco, questo non è il metodo. Chi non ha voglia di vaccinarsi è inutile che venga ai centri vaccinali e l'azienda intende prendere una posizione di tolleranza zero. Perché noi stiamo effettuando un'attività a favore dei nostri utenti e intendiamo continuare a farla. Sanitari impegnati su più fronti come in questo weekend di vaccinazioni aperte alla fascia 5-11 anni. C'è stata una discreta risposta anche se dopo l'apertura delle scuole abbiamo visto un attimo di calo o di stasi sull'accesso alla vaccinazione. Noi ad oggi, come Ulzotto, siamo al 34% dei bambini 5-11 anni vaccinati. Fascia d'età pediatrica che in questo periodo risulta particolarmente colpita. Oggi abbiamo 5 neonati che sono in osservazione stretta per la positività delle loro mamme. Nel reparto pediatrico in questo momento ci sono 5 bambini ricoverati covid positivi per problematiche diverse, anche perché sono diverse le fasce che sono interessate. Siamo abbastanza preoccupati per un bambino di 28 giorni che ha difficoltà alimentari, però sta superando la fase acuta in maniera brillante e gli altri hanno problematiche correlate al covid ma sono fasce d'età più diverse che vanno dai 2 anni ai 14 anni.